Bene, vediamo allora adesso alcuni esempi. Supponiamo ad esempio di voler rappresentare degli oggetti geometrici. Cominciamo con gli oggetti più semplici che possiamo concepire in geometria, i punti, e supponiamo anche di avere semplicemente un piano cartesiano a disposizione. Allora ecco che un punto sarà caratterizzato da una coppia di coordinate cartesiane e quindi per esempio potremmo pensare di definire un fontore point, un simbolo di funzione point, con due argomenti e i due argomenti starebbero a rappresentare appunto le coordinate cartesiane del punto in questione. Quindi questo che sarebbe? Sarebbe in un dominio appunto di un fatto di punti di un piano, questo termine sarebbe appunto a indicare il punto di coordinate 1, 1 in prolog, questo è un fontore, point è un fontore di arità 2. Qui che abbiamo? Qui abbiamo un simbolo di predicato e qui abbiamo una variabile. In pratica l'uguale sarebbe a dire che questa variabile p con 1 indica esattamente lo stesso oggetto del dominio che è indicato da questo fontore. Ovviamente è lo stesso qui, quest'altro. Ecco ma il punto è questo qui. Se noi adesso dal punto volessimo salire a rappresentare un segmento, un segmento è contraddistinto da due punti che sono i due estremi appunto del segmento, per esempio qui abbiamo il segmento S, potremmo semplicemente definire un altro fontore, segment, seg, con due argomenti che sono appunto i due punti che sono estremi del segmento, in questo caso ad esempio indicati da due variabili p con 1 e p con 2 e che potrebbero matchare, poi vediamo, su una struttura più complessa che ha come funtore principale segmento e ha come argomenti i due termini o strutture e io adesso sto usando indifferentemente le due espressioni, cioè le due espressioni del linguaggio, cioè termini e struttura, in prologue dovremmo definire, dovremmo chiamare strutture. Allora adesso le chiamiamo due strutture, però ricordiamoci che sostanzialmente mappano sul concetto di termini della logica prima ordine queste due strutture, date come argomento alla struttura, al fontore segmento, fanno una sovrastruttura, una struttura composta che comunque sempre un oggetto del dominio rappresenterà. Questa volta supponiamo che il dominio si è steso a considerare non solo punti del piano cartesiano ma anche segmenti del piano cartesiano. Se poi andiamo ulteriormente sopra, beh in realtà siamo sostanzialmente allo stesso livello del segmento, possiamo semplicemente considerare un triangolo come una struttura contraddistinta da tre punti, tre vertici e tutto segue in maniera abbastanza intuitiva. Quindi ecco che torniamo a bomba, cioè dove eravamo nell'unità didattica precedente, dicendo che queste strutture sostanzialmente rappresentano degli alberi. È chiaro qui l'interpretazione. anche le espressioni aritmetiche sono strutture. Per esempio, a più b per c meno 5, questa è un'espressione aritmetica, beh, altro non è che una struttura esa stessa in prologue. Se avessimo voluto rappresentare in maniera prefissa come normalmente si fa con i simboli di fontore questa struttura, avremmo dovuto dire che qui ci sono dunque 1, il più, il per e il meno. Sono tre simboli di funzione, cioè tre fontori, che avrebbero dovuto scriversi così per corrispondere alla sintassi del prologue. Ma poiché stanno a rappresentare degli operatori aritematici, ovviamente, il prologue fa in maniera tale da rappresentarli nella maniera consueta a noi esseri umani, cioè nella maniera cosiddetta infissa. Beh, non c'è nessuna differenza dal punto di vista del significato in termini prologue, fra questa espressione, dove gli operatori, è quella che usa prologue in effetti, dove gli operatori sono in maniera infissa, e questa qui è quella che avrebbe dovuto utilizzare prologue se non ci avessero i programmatori del prologue voluto venire incontro a noi programmatori. In pratica comunque sempre una struttura che stiamo andando a definire. L'unica cosa significativa che vorrei qui anticipare è che è una struttura come le altre di fatto, però è una struttura che quando sarà messa come argomento, come vedremo, come secondo argomento, di un predicato particolare, che non è l'uguale che abbiamo visto prima, ma è l'is, non è questo, ma è un predicato che scrive is, is, terza persona singolare del verbo essere in inglese, è, verrà valutata in senso procedurale, cioè partirà una funzione, quella che corrisponde al fontore principale, a cui saranno passati poi eventualmente queste strutture, che a loro volta chiameranno altre funzioni, quelle che corrisponderanno al loro fontore principale, funzioni C, e che andranno a effettuare sostanzialmente le operazioni rettometriche del CASB. Ovviamente qui non avrebbero funzionato perché abbiamo degli atomi che sono delle costanti non numeriche, però comunque su questo ci ritorneremo. Il matching sarebbe la versione prologue dell'unificazione, ma vediamo anche fra un attimo che non c'è corrispondenza perfetta, in realtà quando abbiamo parlato della unificazione abbiamo anche anticipato questo concetto, quindi adesso lo riprendiamo, lo vediamo con calma, e vediamo anche come il matching, cioè l'unificazione, è una prima forma già di computazione dichiarativa. Matching è un'operazione sui termini che sostanzialmente serve per far concedere, per vedere se è possibile trovare una coppia variabile termine che fa sì che due termini, ovvero due strutture, siano sinteticamente proprio identiche. Quindi sostanzialmente sarebbe il concetto di unificazione. Ad esempio, supponiamo di avere due strutture data, date. Se io prendo questa espressione date di 1 M1 2006 uguale date di 2 June Y2 e la lancio come goal, abbiamo qui il predicato uguale che viene riconosciuto dal prologue e in pratica quello che succede è che D1 viene ad essere unificato con D2, M1 con June e Y2 viene ad essere identificato con 2006. In pratica quello che sta succedendo è che vediamo all'opera l'algoritmo di unificazione che abbiamo visto nella teoria, che fa corrispondere la variabile D1 e la variabile D2, alla variabile M1 fa corrispondere la costante atomica June e alla variabile Y2 fa corrispondere 2006. Essendo tutte queste variabili D1, M1, D2 e Y2, tutte variabili che stanno nel goal originario, vengono restituite in forma di risposta calcolata dalla computazione. In pratica però qui non c'è stato un vero e proprio risolvente perché tutto ciò che è accaduto è che grazie alla presenza del predicato uguale quello che ha fatto il prologue non è stato altro che far unificare questi due termini, il primo date che stava a sinistra e il date che stava a destra. E in pratica abbiamo qui la corrispondenza che l'unificazione ha prodotto. Ecco questa che è stata prodotta è l'unificazione che corrisponde al MOS General Unifier, perché come abbiamo detto quando abbiamo fatto la teoria, l'algoritmo per trovare il MOS General Unifier esiste e se esiste il MOS General Unifier lo trova e se non esiste non lo trova. Quindi è completamente decidibile. quello che abbiamo detto quando abbiamo fatto la teoria è che il prologue non implementa non implementa una vera e propria forma di unificazione, quindi sostanzialmente trova sì il MOS General Unifier se esiste, però a volte commette degli errori. Qui ancora in questo esempio stiamo vedendo che il prologue cerca sempre l'unificazione più generale possibile, quella che, vediamo l'esempio, se supponiamo di unificare date questa data con quest'altra, con quest'altra, con quest'altra, vedete questa serie di... no, qui, scusate, qui abbiamo due gol, uno è questo e uno è questo qui vengono lanciati insieme con questa virgola qui, vuol dire che li lanciamo entrambi, quindi saranno soddisfatti prima questo e poi questo che cosa succede? Che D con 1 viene unificata con D2, M1 con giugno e Y2 con 2006 esattamente come prima. poi dopo, sempre D1 deve essere unificata con 17, M1 con M3 e 2006 con Y3. Quindi in pratica il prologue cerca l'istanziazione sempre più generale possibile ed effettivamente la trova e fa vedere anche che si accorge che Y2 e Y3 sono sostanzialmente unificate allo stesso oggetto e questo oggetto viene poi restituito come unificatore di Y3. Bene, quello che dicevo prima invece è che il matching non è l'unificazione. Non è l'unificazione perché, ricordiamo, il matching operato dal prologue non opera la cosiddetta occur check. Questo gol qui in termini logici non dovrebbe unificare perché non si può unificare una variabile, in questo caso a X, con un termine che contiene la X stessa e invece, come vedete, il prologue effettua la unificazione. Qui avrebbe dovuto restituire false e invece effetto all'unificazione. Questo, abbiamo già anticipato quando abbiamo fatto la teoria, è uno dei motivi per cui il prologue potrebbe non restituire delle risposte corrette. Comunque sia, già la unificazione, cioè il matching, è una forma di computazione. Supponiamo, ad esempio, di avere un database costituito da questi due fatti qui. Come vedete, sono due clausole atomiche. La prima dice che c'è un segmento che ha come estremi i punti di coordinate X1, Y1 e X1, Y2. E poi c'è un altro fatto che dice che il segmento di coordinate X1, Y1 e X2, Y1 è orizzontale. Come vedete, infatti, i due estremi del segmento, nel primo caso, condividono la stessa scissa, nel secondo caso, condividono la stessa ordinata. Allora, supponiamo di dare questo programma al prologue. Ora dovremo far partire l'editore, ma invece che farlo partire, anticipiamo una cosa che vedremo più in là, quando faremo il database. Utilizziamo un predicato, che poi è quello che userebbe il consult. Un predicato di sistema, che serve per asserire, cioè per inserire delle clausole all'interno di un predicato, di un database, scusate. Quindi abbiamo asserito il primo fatto, quello evidenziato qui, adesso asseriamo anche quest'altro, con un predicato, ripeto, che si chiama assert, ma lo stiamo anticipando, ne riparleremo, un predicato built-in di sistema, che serve per raggiungere clausole all'interno di un database. Ne riparleremo più in là. Ecco quello che avevo fatto prima. Era lasciare questo punto qui, non mi ero accorto che c'era questo punto. Bisogna inserire la clausola, ma senza il punto finale, come argomento dell'assert. Va bene. E adesso che abbiamo asserito queste due clausole nel nostro programma, possiamo andare a fare delle domande, cioè a lanciare dei goal. Chiediamo ad esempio se il segmento di coordinate che ha come estremi i punti 1,1 e 1,3 è un segmento verticale. Ci risponde che è vero, è un segmento verticale, se volete vedere, facciamo una controprova, spostiamo, cambiamo la x, questo ci dovrebbe rispondere false, esatto. Questo non è un segmento verticale, torniamo al primo. Ci risponde che è un segmento verticale perché ha unificato questa 1 con questa x con 1, che a questo punto deve essere x con 1 qui, e che dovrebbe essere 1 nel secondo estremo, infatti 1. Poi y1 ha unificato con 1, y2 ha unificato con 3, e va bene, non c'è problema, è resistito vero. Ovviamente potevo fare una verifica simile anche per Horizontal. Il più interessante invece è fare questa verifica qui, cioè lanciare questo goal, scusa, un goal in cui andiamo a chiedere se... quale sia un punto P, quindi questo dovrebbe unificare con un punto... dal punto di vista logico quella variabile P dovrebbe unificare con un oggetto del dominio che sarà un oggetto che dovrebbe essere un punto, che fa dal secondo estremo all'interno di un certo segmento a... dal secondo estremo a un segmento che ha come primo estremo il punto di coordinata 2 e 3. Beh, qui di punti, di segmenti che hanno 2 e 3, scusate, come estremo, non ce ne sono perché noi abbiamo semplicemente nel database, come vedete, una clausola, unità, che dice semplicemente che se un segmento che ha una certa coppia che ha come estremo un punto di coordinata x1 e y1 sarà verticale se avrà come estremo un punto in cui l'ordinata è un'ordinata qualunque, ma la scissa è la medesima scissa dell'altro estremo. in questo caso sarà verticale. Se noi adesso gli chiediamo, esiste nel database un segmento che sia verticale e parte dal punto di coordinata 2 e 3? Il prologger ci risponde. Beh, sì, esisterà, non lo so, perché questo qui vi ricordo che era tutto quantificato universalmente, quindi, sostanzialmente, come dicevo prima, abbiamo solo espresso una regola, sì, esisterà, ma perché esista, bisogna che il secondo estremo abbia come ascissa 2. Per quanto riguarda l'ordinata, può essere una qualunque ordinata. Vedete, qui sta utilizzando per rappresentare una variabile qualunque, la notazione che abbiamo visto nella unità didattica precedente, che inizia con l'underscore. Questa vuol dire una qualunque variabile. Questo g2408 ce l'ha messo dentro l'interprete prolog, ma l'importante è capire che è una variabile, questa qui, perché inizia con l'underscore. Quindi, come vedete, già la unificazione è già una forma di computazione. Se noi, per esempio, chiediamo adesso, astante il database composto da quelle due regole che abbiamo asserito poco fa, gli chiediamo se esiste un segmento che sia verticale, al tempo stesso, orizzontale. E' interessante, il prolog ci risponde. Sì, in realtà questo segmento esiste, però, come vedete, è un segmento che avrà una qualunque ascissa nel primo punto, ma la stessa ascissa ce l'avrà nel secondo estremo, e avrà una qualunque ordinata nel primo punto, ma la stessa ordinata ce l'avrà nell'altro estremo. e quindi, in pratica, non può esistere un... cioè, ne esistono infiniti di segmenti che siano contemporaneamente orizzontali e verticali, ma sono composti tutti quanti di un solo punto. Bene, andando verso una conclusione di questa unità didattica, quindi richiamiamo concetti che sappiamo bene, e cioè, adesso non torniamo, perché abbiamo speso tutta la prima parte del corso sul concetto di semantica dichiarativa, e ricordiamo semplicemente che, data una clausola P, se Q o R, noi possiamo dare quella che sappiamo a un'interprezione dichiarativa, cioè quella logica, quella tipica della logica, e cioè, sostanzialmente, questa non è altro che una clausola che dice che se Q ed R sono veri, allora è anche vero P, oppure dire P sarà vero se sono veri Q ed R, o R e Q, che è la stessa cosa. Ma il prolog ha anche, essendo un linguaggio di programmazione, ha anche un'interprezione procedurale, e sostanzialmente sarebbe questo. Per risolvere il problema P, cerca prima di risolvere il problema Q, e poi cerca di risolvere anche il problema R. Quindi per fare P, prima fai Q e poi fai R. Per soddisfare P, prima soddisfa Q e poi soddisfa R. Qui già questa interprezione procedurale ci fa capire che l'ordine con cui verranno esaminati i goal, di fatto, in realtà, ci fa capire, ci fa pensare, ci fa, è abbastanza suggestiva l'interprezione procedurale per come viene a essere definita, perché si capisce che prima bisogna risolvere Q, poi bisogna risolvere R, l'ordine inverso non produrrà esattamente lo stesso risultato. Quindi il sindicato procedurale specifica come il prologue dovrà rispondere alle questioni, e quindi sostanzialmente abbiamo un programma, è un insieme di goal, lo sappiamo bene, è un insieme di goal, vuol dire un goal che è composto da più sotto goal, ci sarà un'esecuzione che porterà da un lato a successo o fallimento, e quindi il prologue risponderà yes, true o false, ma al tempo stesso, come sappiamo, ci sarà l'istanzazione delle variabili. Come sappiamo, perché abbiamo visto che sarebbero la cosiddetta risposta calcolata, limitata alle sole variabili che comparivano nei goal originari, possiamo però invece pensare che è la stessa operazione come a lanciare una funzione con delle variabili passate per riferimento, dopodiché la funzione booleana avrà successo, avrà fallimento, ma nell'aver successo, nel ver fallimento, eventualmente stanzierà le variabili che abbiamo appassato come argomenti. Bene, allora sostanzialmente così chiediamo anche questa unità didattica che conclude quindi anche la presentazione della semantica dichiarativa e procedurale del prologue. Nella prossima unità didattica prenderemo in considerazione gli operatori, soprattutto gli operatori aritmetici. Grazie.